Sono già decine le persone che hanno ritirato il biglietto al botteghino del teatro per la serata del 9 dicembre organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano in collaborazione con la Proloco e interamente dedicata a Giacomo Gabbianelli, ex presidente del collegio sindacale ma anche stimato commercialista e poeta dialettale per passione. Gli ultimi giorni avremo sicuramente qualcuno che vorrà vedere magari tutto quanto cerchiamo di farlo vedere tramite voi perché evidentemente i posti non ci saranno per tutti però io credo che il primo grazie va rivolto alle compagnie a chi ha impostato tutta questa iniziativa perché la banca ci ha messo soltanto l'idea e sicuramente credo che senza l'apporto di tante persone dalla Proloco alle compagnie credo non si potesse fare quindi un grazie di cuore da parte della banca e poi ci rivedremo, ci sentiamo in teatro. Durante lo spettacolo dal titolo L'Ispirazione, Giacomo Gabbianelli, La vita mia verranno proposte letture musiche portate sul palco dagli artisti locali. Questa volta abbiamo voluto fare qualcosa in più, abbiamo voluto mettere a disposizione della città di Fano questo gruppo di lavoro di tutte le compagnie teatrali. Lo ricordiamo spesso quando facciamo una lettura di poesie con amici, apriamo i suoi libri, la Genesi o Bersel 2000, insomma ricordiamo spesso Giacomo Gabbianelli. Questa cosa la facciamo in maniera ufficiale invece al Teatro della Fortuna. Le letture si alterneranno a poesie, sketch e parti cantate. La scenografia sarà arricchita dalla proiezione di immagini di Giombetti mentre la parte musicale è curata da Giovanni Oliva. La fisarmonica Dramane Conatè ha le percussioni mentre chitarra e voce da Luca Vagnini. Abbiamo preso da tutte le pubblicazioni che Gabbianelli ha fatto, da Rispiration, da Genesi, da Oltre il 2000 e Destiny's Force e quindi abbiamo cercato di fare una cosa completa. Abbiamo cercato, nel limite del possibile, di riuscire a descrivere la vita di Gabbianelli attraverso le sue opere. Un musical con canzoni conosciute ma dove lui ha cambiato i testi per adattarlo alla commedia che lui praticamente aveva scritto. Quindi io vi invito tutti, mercoledì 9 alle ore 21 al Teatro della Fortuna, a venire e a rendere omaggio a questo poeta fanese che è Giacomo Gabbianelli. È ancora possibile ritirare gratuitamente i biglietti nelle giornate del 5, 6 e 9 dicembre negli orari di apertura del botteghino.